Ciao Fede, come stai? No, non stai parlando con me Sì Fede, guarda, ti sei appena seduta, sei tu No, non sono io, non sono io, sto sbagliando E allora sei questo Assassin's Creed? No, non mi troverai mai, te lo dico Anzi, 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 mi puoi trovare perché ti dico una cosa Sono diverso ovviamente da tutti gli altri Iron Man allora Iron Man è diverso da tutti, no? Ho qualcosa di ancora più speciale, capito? Che tu probabilmente adesso non immagini ancora meglio E allora vengo a cercarti Mi sembri... Ciao, hai un fucile? No, è una skin questa, è una skin Guarda, non ti succede nulla Ah, grazie È stato bello, vero? No Ucciderti è sempre bellissimo E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stefano, che si chiama Gmod? Ed eccoci qui finalmente con il secondo episodio di Gmod Siamo felicissimi, siamo addirittura qui con una nuova modalità Molto simile ma diversa dal nascondino Esattamente, è un nascondino ma diverso Si chiama Indovina Key Ma non è il classico gioco dell'Indovina Key Tipo agli occhiali, ai capelli rossi, eccetera, eccetera No, praticamente abbiamo una mappa scelta da noi Ci sono un tot di NPC E noi dobbiamo riconoscere il player tra quegli NPC Non so se si capisce Allora, in poche parole sono dei robot Quindi devi riconoscere i movimenti reali di Stef o di Fereniki Rispetto a quelli finti dei robot Ma vi dico già che si muovono davvero bene Sembrano tutti reali Corrono, saltano, fanno davvero un sacco di cose Sembrano super reali E noi non possiamo prendere e sparare tutti a caso No, abbiamo 100 di vita Ogni volta che sbagliamo e spariamo appunto a un robot Togliamo 10 di vita a noi stessi Quindi se sbagliamo 10 volte siamo morti Esatto Abbiamo 5 minuti per trovare l'altro Parto io nascondendovi così capirete subito la bellezza Abbiamo scelto delle skin personalizzate Strabella Abbiamo messo un po' di tutto C'è Super Mario, Steve di Minecraft, Alice in Wonderland Assassin's Creed, Joker, Iron Man C'è davvero di tutto Abbiamo scelto quelle che poi ci piacciono a livello di gusti Quindi speriamo che piaceranno anche voi così Tutte un po' pazze, un po' particolari Esattamente Allora, adesso non vedo niente Perché giustamente c'è il tempo tuo per iniziare ad andare in giro E confonderti tra le masse di robot Ho ancora 5 secondi Ti dico già una cosa Mi stanno spaventando tantissimo Perché? Cioè, sono super realistici Ti guardano, si girano, scappano Cioè, come accidenti fai Tu sei fermo da qualche parte Ok, sì, ha senso Non sento la tua tastiera Ok, hai ragione Hai ragione, sì Sei questo No Ce l'ho fatta? No, non sei tu Poi eri vicino Se hai avuto paura sei qui vicino Ahà Quale sei? Evo Quale sei? Sei questo? Dannazione Sei questo! No! Ahahahah Cioè, mi hai trollato Hai fatto dannazione Quindi ero convinto a fossi tu E ti ho continuato a sparare Allora Che è successo? Devo spiegare Perché anche i consolini Vendo il mio schermo Non avranno mai E poi mi hai capito È evidente quando hai detto Sei Jack Skeleton Ero io Tu quando hai sparato Io ho fatto in contemporanea Al tuo sparo La mia mossa Che faceva finta di essere morto Dopodiché praticamente Ho fatto finta di essere Quelli L'intorno Ho fatto dannazione E tu Ti sei auto-uccisa Sì Steph è il numero uno Esatto È troppo trollato Però non è giusto L'avevo capito Ti sei già nascosta? Sono in giro Ok Sono in giro A gironzolare Guardarmi il panorama Sei stata brava Hai usato l'indizio della tastiera Per capire se mi stavo muovendo meno Ed è stata una cosa Molto 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 intelligente Beh, altrimenti cosa devi fare? Cioè, se sbirci Vedi già chi sei Al momento sei ferma anche tu E secondo me No, no, no Sai che cosa sto utilizzando? Ok Io mi sto muovendo Ma sto premendo la tastiera Tantemente piano Da non farti capire Se io sto premendo le tastiera o meno Sono un genio Ma sei seria? No, no, sono seria Cioè, lo sto facendo davvero Le sto premendo pianissimo Perché poi la mia tastiera È meno rumorosa della tua Quindi Sto cercando di fregarti In questo modo Disgraziata Perché io sto camminando Non sono ferma Sto camminando No dai, è impossibile Io non so come fare Sto camminando Ti giuro, è impossibile capire chi sei È proprio impossibile, è impossibile Ti do un indizio Ok, io non ti ho ancora visto Ok Quindi non ci siamo mai incrociati Eppure secondo me tu sì Questa qua No No, no, no Vabbè prova dai Male che vada per dieci di vita Cosa vuoi che siano dieci di vita? Non fare la simpatica Cosa vuoi che siano? Questo Steve si sta muovendo In modo un po' strano No, ho sparato in una casa Però, ti ho detto mai Eh sì, ho perso dieci di vita Infatti Eh sì, eh sì, eh sì Ho sparato con convinzione ad Harry Potter E non ero Povero Harry Povero Harry Jack Sparrow Povero Harry Non ti sopporto più Non ti trovo È impossibile No, io te l'ho detto Cioè fanno davvero Harry fa cose strane Tutto il tempo Però Esatto E quindi pensi che siano Super Mario Da dove stai sboccato? E come hai fatto? Io poi Nel panico Ho premuto destro Perché mi hai detto C'è un'abilità speciale Ma non è partito niente Perché devi guardartela Qual è Ognuna ha il suo effetto Cioè guarda una cosa Steve si è seduto Perfettamente davanti alla Steve Ah sì, quello Sì ma aspetta Tu ti sei incastrata, giusto? Io non so perché ho problemi Guarda Un Assassin's Creed mi è incastrato Aspetta un attimo Non ci provare Cos'hai fatto? Cos'è questa cosa? Cos'era? Mi hai sparato? Sì ti ho sparato Eh uffa Era un buco nero Dai era una cosa pacifica Io ero lì bloccato Tu mi hai fatto paura E ho detto Dai lo sparo Ma era una cosa pacifica Un buco nero? Sì Davvero secondo te Un buco nero è una cosa pacifica? Sì Eh chissà chi sono Questo qua Chissà chi sono Stai facendo poi i movimenti strani Scusi Chissà chi sono Sei ferrenichi? Eh magari sono quello Non sarebbe così intelligente Non sarebbe mai così intelligente Allora Continuiamo a muoverci Questa qua è seduta da qui da troppo tempo? No ho perso 10 di vita Non ce la puoi fare Sto perdendo un sacco di vita Ma che Sembra che si fermino a guardarti Come dire Non dovrei essere qua? Ma secondo me è fatto apposta Che quando sono vicino a te Ti guardano E cose del genere E comunque ti ho trollato Un'altra volta È troppo divertente Allora io credo di sapere Chi tu sei È troppo divertente Te lo giuro No Dannazione È troppo divertente Dai ho già 30 di vita Non è possibile Perdo di nuovo Io non sto facendo altro Che passarti davanti Cioè Avanti indietro Avanti indietro Tutto il tempo E quindi un sacco di volte Tu hai sparato All'NPC Che era a fianco a me E a me Invece mi hai ignorato Giusto per farti capire Ti sto odiando Tipo almeno 4 volte È successa sta cosa Non capisco chi tu sia E odio questa cosa Sbaglio Ho qualcuno No non ci sono Non sono vicino a te Mi dispiace Che hai preso? E lì si in Wonderland Sì E ma eri in bagno? No Ok Ciao Fede Mi vedi Sono Hagrid Mi vedi Fede Fede Sono dietro di te Fede No stai cambiando personaggio Che succede? Mi hai incastrato Fede Fede Ammazzo tutti Ti ucciso? Fede Non è che ci ho palito Ti ho ucciso però Ho detto Credo di averti anche ucciso a te però Giusto? Sì Sono morta pure Abbiamo fatto un omicidio suicidio Esatto Esatto Comunque ti ero dietro Perché mi ero rimpicciolito Piccolo 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 Non abbiamo detto Quali saranno Le nostre skin da ora in poi Nel nascondino normale In queste modalità Eccetera eccetera Ci siamo scelti anche le skin E le abbiamo messe qua in mezzo Io in questo momento Don'indizio a Ferreniki Ho la skin di Ferreniki Quindi questa qua Che state vedendo in questo momento Dal mio schermo È la sua skin È in versione steampunk È davvero bellissima Purtroppo L'unica cosa che non ho trovato Erano i capelli rosa Però secondo me è strabella Perché sarebbe Gage Di Borderlands 2 Esatto Quando l'ho giocato Era il mio personaggio Quindi ho detto Come l'ho vista Ho detto No poi è steampunk Peccato per i capelli rosa Però dai mi assomiglia un sacco Sei questo Stai cambiando fisso Stai per esplodere Cos'è stato Sono morto e esploso Che cos'era Boh Si chiamava Sudoku Ti ho visto davanti Tanto capisce che sono io Perché gli avevo letto Che skin ero E mi sono esploso Almeno in quella stanza Ce n'erano altre 4 Guarda Ti hai capito Lo so Proprio la varietà incredibile Proprio della mia skin Invece La mia skin È semplicemente Jack Sparrow Perché volevo un pirata Il pirata più famoso di sempre Che poi non è però pirata È Jack Sparrow Ho adorato i film Adoro Johnny Depp come attore Quindi è perfetto E sarà la mia skin Quindi nel prossimo nascondino Ci vedrete con quelle due skin Nasconderci in giro In una mappa Che uscirà probabilmente Nei prossimi giorni Io ero indecisa Se prendere anche quella di Eli Celestine Wonderland Lo so è molto bella Amo quella storia Amo il videogioco Ed è bellissima Però dai Quella steampunk Alla fine Mi piace di più lo steampunk Io ho tutti i personaggi Steampunk Quindi è normale Continuo a sparare a quello sbagliato Sto sparando a tutti Mi dispiace Sei uno di questi Steve no? Eh boh può essere Provaci No Hagrid Neanche Ho perso tutta la vita Poverino Ti odio Poverino Ti odio Fere Poverino Dove sei? Perché qua c'è la porta chiusa adesso? Ah l'ho aperta Non sapevo se potessi aprire chi le porte Guarda Dove vai? Ciao Camminare all'indietro secondo te è normale? Mani in alto Stai ferma Fermati Fermo a sparo Che abilità hai? L'ho già usata Era un raggio verde Ma non t'ho preso Ah ok Allora Aspetta eh Tieni Fermo un attimo lì Ok Dopo il secondo da due ore è stato bellissimo Lo immaginavo Ma ti senti a te che hai chiuso la porta e mi hai incastrato là Ma ti sembra Ma ti sembra Infatti proprio così l'ho capito Credo che ci stia cambiando mappa senza permesso Come ti permetti scusa? La mappa di GTA è bellissima Non gliel'abbiamo chiesto di cambiarci mappa Scusi Ehi Fere Dimmi Perché mi devi stressare? Sono nella tua stessa stanza Ok? Ok Sei nella stanza Insieme a me Chi sono secondo te? Fere? Sto pensando Ok Sei questo? No Eh Questo Ma sei diventato Ti vedo però No com'è possibile? Ti vedo Ma dai Ma com'è possibile? Era invisibile ma si vedeva l'alone No E quindi con l'alone sono riuscita a capire dove stavi andando Ti vedi praticamente Oh come se fosse una cosa strana Uno spirito Ecco Come se fosse uno spirito Ti vedevo lo stesso Hai cercato di pregarmi Ti volevo attronare E sei stato punito Fere sei in cucina? Certo ti sto aspettando Perfetto Cos'hai in serbo per me adesso? Adesso arrivo Non te lo dirò mai la mia tattica Ma dai dimmelo Sono arrivato Sono arrivato Oddio ne sono arrivati 15 in questo momento Beh sai com'è Non voglio farti capire chi sono Sei Iron Man No Sì Hai esitato Sei Iron Man No No Scusa guarda Sì No non sei lui Dici Sì Ok Non lo so Va bene Va bene Va bene Allora non sono Iron Man No Ok perfetto Allora Però si sta muovendo in modo troppo strano questo Iron Man Deciditi Non lo so O lo sono o non lo sono E che cavolo ne so A me lo devi dire Lo sai tu che cosa sei Non lo so E beh devi spararmi Nel caso Quindi devi capire tu Di capelli bianchi Ok va bene Mi sono confuso Ti perdono Grazie Scopo Sei quello Disgrazia Vieni qua Vieni qua a farti ammazzare in modo donorevole No dai Lasciami in pace Vieni qua Lasciami in pace Voglio vincere almeno un round Non sono mai resistito per sei minuti Ti prego Appunto perché sei scarso Ti hanno incastrata Non mi hanno incastrata Non riesco a uscire Cioè c'è Super Mario Perché abbiamo scelto Super Mario Che è gigante Occupa tutte le porte da solo Cioè non è possibile Lo so Però ormai mi hai perso Non puoi più sapere chi sono Mi spiace No non eri questo C'era un Ormai sono ben più lontano Un silente che si muoveva in modo strano Ben più lontano Mi vanno male le guange Da quanto sto ridendo Tu non puoi capire Ma l'importante è che capiscono i consolini Sì ma tanto non posso entrare nelle stanze Nelle stanze Però c'è un silente fermo Ma è svenuto Perché è svenuto Ehi Ti sei ucciso No Allora Ho fatto Ho fatto la finta morte Ero quello lì Capito Ah ok Ero quel silente Ho fatto finta di morire Ti sono responato a fianco Sono scappato E mi sono trasformato in qualcos'altro Non ero l'Iron Man Quando ho fatto scappo È perché io avevo una visione Degli impisti della stanza E appena ne ho visto uno correre Ho fatto finta di dire scappo E tu l'hai inseguito E io ti seguivo E i consolini hanno visto tutto Trollatissima Muori È la modalità Più bella del mondo Cioè Una modalità dove si può trollare così tanto Non è mai esistita nel mondo Sei questo Quale? Quest'altro Non lo so Se sei sicura prova a sparare Questo è Harry Potter Dici Aio E adesso che fai? Perché sei diventato anche tu come me? E adesso che fai? Cosa hai combinato? Che diavolerebbe questa? Cosa fai adesso? Sono tuo amico Non mi puoi sparare Sono tuo amico Come hai fatto? Cos'è questa cosa? Un'altra abilità Allora Oh mio dio No dannazione è finito Dannazione è finito l'effetto Vero È stato bellissimo vedere esplodere Super Mario con te che urlavi Dai Eravamo colleghi Hai dato un'abilità che io non conoscevo Sì ok ti ho lasciato in pace Nel momento in cui hai smesso di essere mio collega Giustamente È durato troppo poco il mio potere Bellissimo quel potere Non lo conoscevo Bellissimo Penso se sei in tanti Eh esatto E inizi E tu basti Cioè magari siete due a cercare Ok E uno di quelli che invece si nasconde Si trasforma in quello E ti trova Esatto Bellissimo Tra epico Comunque dai io direi che ci possiamo fermare per questo video Speriamo che vi sia piaciuta questa malità Speriamo che continui a piacervi Gmod Perché davvero possiamo fare un sacco di cose Abbiamo scoperto che ci sono anche le mappe di labirinti Come quelle di GTA Però con labirinti ancora più fitti E impossibili da fare Cioè quello è impossibile È solo da fare proprio come labirinto Figuriamoci Giocare E ammazzarci lì A voglia A voglia Speriamo che vi stia piacendo questo gioco Lo speriamo davvero tantissimissimissimo Speriamo che vi sia piaciuta questa malità E ci fermiamo Così Bene che se non riesce così Se non c'è Sciocciateci un like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarli Da iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao Ciao